Le guarigioni superano il numero di nuovi casi nell'ultimo bollettino regionale sul coronavirus. Sono 1062 i contagi accertati nelle ultime 24 ore con un'età media di circa 42 anni. Su oltre 22.600 tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi, è risultato positivo il 12% delle prime diagnosi. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, la provincia con il maggior rialzo di casi si conferma Firenze, più 292, seguita da Pisa, più 165, Prato, più 129 e Lucca, più 115. In Toscana gli attualmente positivi ad oggi sono in leggero calo a quota 26.638, mentre le guarigioni, ben 1.172 in più nelle ultime 24 ore, arrivano a superare quota 152.700. Si conferma purtroppo al rialzo il trend sia dei ricoveri che dei decessi. 23 in più le ospedalizzazioni rispetto alla giornata precedente per una totale di 1.729, di cui 243 in terapia intensiva. 31 invece i nuovi decessi, 21 uomini e 10 donne con un'età media superiore agli 80 anni. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Toscana le vittime salgono così a 5.149. Infine, per quanto riguarda la campagna vaccinale anti-Covid, nella nostra regione le somministrazioni hanno superato quota 518.800, di cui 5.179 inoculate nelle ultime 24 ore.